Io ho scritto video E' un po' schistica E' un costico, d'aggi Per favore, po' schistica ahhh 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 e anche nell'occafì e ne vedi l'occafì e ne vedi l'occafì e ne vedi l'occafì eee O MIGALERA GESIER E' D'INSEQUI? E' D'INSEQUI? E' D'INSEQUI? E' D'INSEQUI? EI, VOCÊ QUER A FACA? OU? POR FAVOR! VOCÊ QUER A FACA? OU? OU? I' D'ICOL MIGUH VUT Android FFFF FAVOR FFFF EI, NO. COMPETE, WHAT'S IT? HAH! FAVOR 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 Grazie.